Il tempo voglio resta a cano, ma non fui per vivere, voglio campare Siamo a te per tutto quello che c'è sta, perché non c'è niente senza c'è prima Terra e sole, terra e mare, e l'amore vince e va lontano Terra e sole, terra e sole, terra e sole, terra e sole Terra e sole, terra e mare, e l'amore vince e va lontano Adesso vi presenteremo il coro dei ragazzi dell'Istituto Leopardi Bertone, Bertone, Bertone 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 Bertone, 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 che riesce da fuori da ogni Bertone Ma quanti Bertone, 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 perché sta città? Na 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 Bertone, 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 Bertone Bertone, 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 Bertone il premio Elia Rosa, undicesima edizione c'è anche il rap the best, il nostro grande amico Spica a ottobre 18 anni, insomma voglio dire Spica è uno che già vola alto allora come stai? Tutto bene, un po' emozionato per stasera però bene bene guai non fosse così esatto dai sembra un po' più facile prendi quelle pagine scrivigli sopra frasi che asciugano le tue lacrime asciugano le tue lacrime scappati per una ragione scappati in un'altra regione perché nel cuore non cambia stagione piova di rotto da ore mi hanno chiesto di trovarmi un posto ma adesso indosso un camice lavora per te stesso strappa tutte quelle pagine scrivere testi non compenserà che questa gente non ti penserà creare un problema e sapere che poi peserà stringerti forte non aggiusterà siamo legati da forze invisibili allagati da lacrime lividi che i ricordi sono più che vivi qui se che cadi non avere limiti i ricordi sono vivi sa venendo a prenderli tu corre verso loro grida torna a prenderli che con i dischi d'oro potrei solo accenderli sti fiori colorati posso solo accendere vivila questa vita prima che ti mangia mirala dopo schivala se lei si incazza intitola le tue righe per la tua ribazza non ricordi la tua storia allora ripassa il mio disco come sappiamo è stato prodotto alla Sudin Sound Autorapsia lo portiamo in giro un po' per Palermo un po' per l'Italia vi garantisco timbrato e firmato chi spica è forte spica su tutti i social comunque se volete se il mio non vi arrivi di musica quindi da fuori sembra un po' più facile prendi quelle pagine e scrivigli sopra frasi che asciugano le tue lacrime asciugano le tue lacrime quando ti persano per quanto uguali questi ti baciano ma sono squali se vuoi volare ti danno le ali ma dopo che scendi non sono le ali tutto al contrario notte svario faccio un inventario di quanto ho inventato che il mio sangue fra sembra freddo ma invece è ghiacciato tu pensi che dice vabbè undici anni è già tutto preparato no ogni anno è una cosa diversa quindi l'emozione è sempre unica è grandiosa questa scelta di lasciare emergere i ragazzi lo che ne pensi? guarda ti parlo a te come ragazzo tu ci governerai domani quando io non ho forza ok poi di dove siete ragazzi? di dove siete? Zambrone Zambrone grazie a tutti grazie a tutti tra grandi artisti c'è appunto la bellezza e la bravura di Barca Bentaleb io voglio ringraziare tutti voi voglio ringraziare alla persona che mi ha chiamato e grazie a lui ecco sono venuta alla riconoscenza di questo grande premio e Agnello Misto grazie Agnello e comunque io vedo tutta questa gioventù però spero che non dobbiamo solo quanto siamo morti perdonatemi certo certo cioè io vedo il futuro che loro ce lo dobbiamo dare di tutti e di più e penso quello che ha dimostrato questa scuola e l'ha dimostrato il prof che l'artista Agnello Misto ha invitato pure gli artisti che hanno un po' più di esperienza più anni per dimostrare stasera e condividere tante emozioni tra noi e il giovanotti e i fancioni e le cose che hanno un po' più di esperienza e cantano E che mamma ti può capire E canta e canta sotto mandorline E un petit bambino E la musica più bella Di tutto il cielo dell'Italia E canta e canta tutta la bocca E un petit bambino Ti fai chanter tanto di due E non ti prendo un paio sui E con le brice di mamma E noi facciamo picceri E ti la tutta è verità Che mamma ti può capire La musica, l'aggregazione, l'arte Possa appunto distoglierli da cose negative Sei d'accordo? Il fatto dell'arte e della musica Se uno si mette lì a riflettere Che è qualsiasi ambiente Qualsiasi manifestazione Se non mettiamo la musica Non è una manifestazione E che significa Veramente se diamo E non solo dare Ma pure ricevere Perché è da fancienne Noi lo diamo Però riceviamo Cioè le loro emozioni Impariamo anche noi Assolutamente Cioè le loro emozioni 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 E intanto i ragazzi della scuola media Fucini Roncalli si dispongono. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.